Milan. Pioli e Fantalliani ansia per Olivier Giroud che pollesioni. Per i prossimi campionati europei e deve essere considerato in dubbio per il derby dopo la sosta. Ecco le parole di TF1 dell'allenatore francese sulla fermata di Giroud aveva un piccolo problema. Alla caviglia. Poi ha girato un colpo. Ha avuto troppo dolore per continuare purtroppo. Le sue parole.Chi ha segnato il gol per 20. Gli aggiornamenti di Förder seguiranno già le condizioni dell'attaccante già domani. Quando il personale medico francese controllerà il caso della caviglia.